Il giovane imprenditore Mario Mellone è vicepresidente della Battipagliese durante un vertice societario, l'annuncio ufficiale che porta il noto imprenditore battipagliese, responsabile commerciale ortofrutta bio presso l'azienda OP Armonia, a rivestire la seconda carica societaria. Da sempre a fianco dello sport battipagliese, soprattutto nella polisportiva battipagliese negli ultimi anni, Mellone è nipote d'arte, visto che il nonno è stato già parte integrante della società della Battipagliese agli inizi degli anni Ottanta e prima dell'avvento della famiglia Pastena. L'idea che mi ha spinto ad accettare questo incarico, ha detto Mellone, è il fatto che a Battipaglia abbiamo bisogno di nuova linfa. Non sono un politico, ma lo sport mi è sempre piaciuto e in questa città, oltre al basket che da anni è ad alti livelli, è il calcio che ha storia e tradizione, darò il massimo impegno, vorrei che in futuro si riproponesse un settore giovanile ad alti livelli.